Attenzione Filippo Mr. K, Filippo! Ascolti Trottolino nella Toscana qua, cambio, cambio! Ciao Angelo, buonasera e ben sentito, Angelo Trottolino, coordinate Calenzano, gareggiata a Mart, io e Pippo Delfino Bianco, capo a capo! K, Roger, Filippo! Salutando pure Pippo Delfino Bianco, Pippo buonasera! Coordinate della Toscana qua, in fase di Cadeso, Trottolino di saluto, Pippo, capo, capo! Quasi via, Angelo, Trottolino, piacere ancora che ti senti la bomba di tempo dai! Come dice Filippo, la parte via, Firenze Nord, dietro di lui, corsia Bergamo! Pippo Delfino, ti lascia la ferie, ma Angelo, va bene risentito, avanti a te, Angelo K! K, Roger, Filippo, coordinate di pistuglia qua, Filippo! In attesa di carica che poi ce la sentiamo nella Puglia Bella, avanti per te Filippo, Mister K, a te l'antenna, K, K! Positivo, Angelo, faccio questo piccolo tratto di buca qua dopo Calenzano e la riprendo dopo, fammi fare questo tratto! E Pippo Delfino Bianco, Pippo Delfino Bianco, e Pippo Delfino, ce la faremo, Angelo! Un attimo che vado un pochettino, qua piano piano pure io, ce la faremo! Traffiglando Calenzano, Angelo, Trottolino, K! Ciao Renato! Positivo, Pippo, è qua e comincia a vedere che scende la nebbiolina, speriamo di fare presto e che ce ne andiamo giù nella Puglia! Nella pistuglia qua, Pippo, campo, campo! Positivo, lancelo, abbiamo iniziato il tratto a Pianino, qua, con la speranza che sia buona, dai! Ti rilancio a Filippo che ormai ha fatto già le prime del buco, ah! Andi Filippo, prova! E' tutto ragione? Carichi e scendi giù, Angelo, si? C'è la caric... Sì, positivo, Filippo, scendo giù! Tempo di caricare, fra favoretta, poi piano piano ce la scendiamo giù in direzione Guagnano! Ce la scarichiamo domani, posiamo i cavalli, li mettiamo a riposo! E ci dedichiamo un po' alla campagna, due, tre, quattro giorni, finì, capo! Ebbè, quello che ce l'ha, dai, c'è uno sfago, ti fai a sfagare un po' di cervelli, tutto ragione! Pippo, abbiamo beccato già uno che porti i marvi qua, piano piano, capo capo! Pippo! E che vuoi che c'è a fare? C'è un peggio, passate con l'anzano? Sono a camminare a 70 ore! E sono del cavallo che sempre ha preso il diretto! Ah, eh! Hai visto un soggetto andando? E' che questo mio figlio è un po' di bacio là, eh! Ma anche le gà, che tu dico a fare? Ciao, Gabriele! Centro di Barberino, capo! C'è un po' di bacio, come c'è la stagione stiamo assistendo a 5, ma come c'è la stagione? Ah, capire, paura di cuore! E' un male male! Poi è male! Ma è fatta, capo! E' sicuro di cui non bisogna mettersi con la fretta! Dobbiamo rallentare! Corriere! Capo! Abbiamo un guido a Barcelli, a me ne sono felici, ma non è un problema! Ma ora, 10 paura di più, 10 paura di me, l'importanza di canizzo e bloc! Andiamo, vi faccio lo trotto lì, capo! L'importante è che si va piano piano, la cosa scorre, poi tutto il resto diciamo che la riprendete giù nelle belle difese là, avanti Mr. K, Filippo, Mr. K, come vanno le cose attaccate là, K, K. Filippo è andato in buco dai, Filippo ci ha dato la due del buco, l'ha uno dietro l'altro e poi la cosa è bella per lui, poi ci arrivo pure io e tutto l'ora ce l'è, diciamo, piano piano ce la faremo, K. Stop, riprende a disfutto, perfino abbiamo capito, una risultata a competenza, bellissime cose belle, si riserve, Kapo. Angelo, tutti i dici come fanno le cose attaccate, Angelo, con la speranza che la cosa è positivamente rogero, capo a capo, fino all'ottobre, c'è lì no comment, hai capito Filippo, i problemi sono i miei qua, carissimo mister Kappa Filippo, questo è un 305 Abarth, bello, quelli sono i migliori, fra poco arrivano che diventano Deboca, quelli là Angelo, sono i migliori, e lo so, lo so, lo so, vai, chi è che chiamava Trottolina con le scuse a Filippo e a Pippo, buonasera 73 qua, coordinati pistuglia, Trottolina che saluta qua, buonasera Dottolina, una pistuglia, Trottolina, coordinati, Kappa Ghi, buonasera, dove siamo qua, non ho capito, è, bello, è questo, è questo, è questo, è questo, gli amici qua in piazzola nel parcheggio, e beh, è loro che vanno girando qua su, abbiamo tolto uno, gli abbiamo preso un altro peggio alcuno, in di cani, ma chi era quella voce che mi salutava sotto sotto, buonasera, Trottolina, che canale è questo, dove era lui, questo è il canale 45, frequenza 27.465, 35 normale, 45, angelo, è il 45 questo, andiamo per le montagne qua, l'uso in negativa Trottolina, Mr. Kappa ti saluta e ti augura un buon rientro, cambio, ciao Filippo, i salutori anche per te, buona griglia di sedata e ci si risente, Filippo, coordinate pistuglia qua, Angelo Trottolina ti saluto, Kappa Kappa. Ciao Angelo Trottolina, piacere sempre quando ci sentiamo, felice rientro alla Puglia, adesso te lo spiegando, Pippo, ti abbraccio e saluto, Angelo Kappa. Ciao, per polso, ti saluto pure a te, buona di sedata di tutto, occhio sempre vigile e alle prossime, Pippo. Da parte mia vado a vedere un attimo in ufficio cosa dicono per il carico. Trottolina vi saluta, ragazzi, Kappa Kappa. Grazie per la visione. Trazione per la visione.